Centri sociali mobilitati contro il convegno dei giovani di destra di Casa Pound, nessun disordine ma Pieve Modolene è rimasta bloccata per quasi tutto il pomeriggio. Grazie a tutti. In città Pieve Modolene a Reggio quasi del tutto paralizzato nel pomeriggio tra blocchi e diversioni per il traffico, un masticcio di spiegamento di forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri in tenuta antisommossa per non parlare di tutti gli agenti in borghese e negozi della galleria di via Fratelli Cervi che hanno lavorato poco o quasi per niente in quello che per Reggio non è stato un sabato qualsiasi. Per le strade il corteo dei giovani dei centri sociali accompagnati dalle bandiere di rifondazione comunista in marcia contro quelli di Casa Pound. Vogliamo arrivare dentro il parcheggio, fin sotto le finestre dove tengono il convegno per fargli sentire la voce di chi è contrario a loro. In democrazia c'è spazio per tutti? In democrazia c'è spazio per tutti ma loro non sono assolutamente democratici dal momento in cui conquistano spazio la democrazia con loro diminuisce. Una mobilitazione antifascista così è stata ribattezzata dai manifestanti perché il comune ha autorizzato il movimento dei giovani di destra a tenere il convegno Italia 2012 quando la politica si arrenda all'economia nella sala civica Cesare Zavattini. Siamo un centinaio, preoccupazione non ne abbiamo, l'unica preoccupazione che abbiamo è appunto il tema della nostra conferenza che questo governo tecnico che è andato in carica da qualche settimana ha già fatto vedere quali sono le sue intenzioni. Dure le prese di posizione contro il convegno di Casa Pound espresse dall'Ampi, dall'Arce e dalla CGL. Intanto però nella notte sono comparse scritte intimidatorie sulla casa di Ferdinando Raiola, responsabile regionale del movimento di destra. Non si è preoccupato? Sono preoccupato della crisi, non sono preoccupato di questi qua. E fortunatamente non si sono registrati disordini nonostante l'accanimento verbale dei giovani dei centri sociali contro quelli di Casa Pound che sono rimasti chiusi per tre ore nella sala civica Cesare Zavattini. Dunque il convegno si è tenuto, gli attivisti di sinistra intorno alle 18 si sono spontaneamente allontanati tornando nei centri sociali e mentre il convegno dicevamo è andato avanti fino alla fine. Cambiando...